Siamo con Paolo Tassetti, assuntore di ACE Europe Italia. Buongiorno, allora, il tema di questo convegno è un tema caldo come quello dell'energia e lei appunto sarà uno dei relatori di questo convegno. Sì, il nostro obiettivo e il motivo della nostra presenza qui è di presentare la nostra compagnia, ACE Europe Italia, come compagnia assicurativa in grado di fornire soluzioni assicurative al tema dell'energia. In particolare, fornire delle polizze che possano coprire il trasporto, il montaggio, l'esercizio e tutte le tematiche di responsabilità civile legate al mondo dell'energia. In particolar modo siamo qua per presentare la nostra offerta per quanto riguarda l'energia rinnovabile, un settore in grandissima espansione che costituisce un mercato molto interessante anche per noi. Cosa potrebbero rappresentare per il futuro le energie rinnovabili? Sono innanzitutto il futuro. Ormai, dopo anche il protocollo di Kyoto, dopo l'interesse di molti stati, bisogna cercare di investire in un tipo di energia che sia dal punto di vista ambientale più sicura, più verde, che tuteli l'ambiente. Quindi sicuramente ci sarà un'esplosione di questo mercato e fornendo un servizio che dal nostro punto di vista è assicurativo crediamo di poter contribuire a questo successo. Grazie a tutti.